La situazione della classe operaia, la diversa cultura sociale, gli intellettuali degli anni sessanta hanno portato avanti un discorso che si è disperso nel vento e semina solo dolori come iniezioni di cemento fatte da un padrone innocente, uomini contro uomini, fame aperta a tutti, forse soltanto i padroni fanno sempre colazione... Tieni, fuma. No, grazie, non fumo. Ma dai, uno spinello, ti toglie quella faccia ingrugnata. Mi fa venire il catarro. Ma io non puoi rompere i coglioni così tutta la sera. Va bene, basta, la festa sta andando in merda. La festa è finita, sgombrare, smammare, andare, The Party's Over, tu sei troppo bravo per questa massa di cagoni. Buonanotte, ciao, andare, smammare, vomitare a casa vostra, buonanotte. Ho detto che non voglio papponi in casa mia, fuori, ho detto. Ciao. Ciao, ciao. No, tu no. Non volevi incontrare qualcuno? Una sorpresa adesso arriva. Io sarò un ingenuo, ma non un fesso. Io son venuto unicamente per conoscere Melano Melani. Dov'è il grande poeta? Avanti, tiriamo fuori il grande poeta. Senti, mezza sega, abbassa il tono di voce. Qui la parte del maschio la faccio io, stronzo. Alla violenza si risponde con l'autorezza. Compotente, omosessuale, cavo entrato. E allora? Me ne frego di te. Melano Melani, lo conoscerò da solo. Aia. Alla violenza si risponde con l'autorezza.